Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro si sono sposati. La coppia ha pubblicato le foto del matrimonio, celebrato a Forte dei Marmi, in Toscana, dove anni prima si sono conosciuti i genitori di lui, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Presenti alle nozze Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, mamma e papà dello sposo, i genitori di lei e la sorella con il fidanzato Edoardo Tavassi. Anche loro, come Clizia e Paolo, si sono conosciuti nella casa del grande fratello. Clizia in Corvaia ha scelto di avere accanto una damigella speciale. Sua figlia Nina, di otto anni, nata dal precedente matrimonio con il leader delle vibrazioni Francesco Sarcina. Lei aveva spiegato a Verissimo di aver scelto i figli come Paggetto e damigella d'onore. Non avrò damigelle all'americana, la mia damigella sarà Nina e nostro figlio Gabriele sarà il Paggetto. Paolo Ciavarro aveva spiegato anche la scelta di sposarsi in un momento così difficile della sua vita, segnato dalla malattia della madre. Eleonora Giorgi accompagna il figlio Paolo Ciavarro all'altare. Eleonora Giorgi sta lottando contro il tumore al pancreas. Ho parlato con mia mamma e lei vuole questo matrimonio. Mi sposo perché voglio che mia mamma sia al mio fianco e anche lei vuole essere al mio fianco in questo giorno. Non scomoderò in questa lettera né Catullo, né Prever, né Neruda e compagnia bella, ma sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ogni giorno per amarti per sempre come Noah e Ellison, tu sai. Ti amo, le parole di Clizia in Corvai al suo Paolo. Un arrivo emozionante quello di Paolo Ciavarro, che tra le lacrime e la commozione degli invitati e degli sposi, è stato accompagnato all'altare dalla madre Eleonora Giorgi e del figlio Gabriele. Un posto speciale per l'attrice La cerimonia è stata celebrata a Forte dei Marmi perché proprio lì, diversi anni fa, l'attrice aveva conosciuto e si era innamorata di Massimo Ciavarro, ai tempi del film, Sapore di mare. Grande emozione, perché Eleonora Giorgi sta combattendo una dura battaglia contro un cancro. Le nozze, all'inizio previste per ottobre, sono state anticipate proprio per la malattia dell'attrice. Con il turbante in testa, Eleonora Giorgi, visibilmente commossa, ha accompagnato il figlio insieme al nipotino di due anni Gabriele. Clizia in Corvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nel 2020 nella casa del grande fratello Vip. Nel 2022 sono diventati genitori di Gabriele.